Qual è il terzo? Terzo bello Max Gasp Il demone? No, come lo chiamano? Come lo chiamano? Il demogorgone? La bestia, la bestia La stregone, ah la bestia Qui gli estremi eh ragazzi Qui gli estremi Io parto dall'estremo più grande, il palmarès Da chi ha vinto tanto e tutto in Italia A chi non ha vinto niente Cioè questo è l'estremo più grande Che metti in gioco La prima cosa che pensi E poi vengono fuori le filosofie Vero E poi viene fuori l'oggi Contro i leieri Anche Vi posso lanciare una provocazione su questo? Devi Era più difficile vincere con la Juventus O portare l'Atalanta ad essere una squadra fissa Ad Europa? Allora Io ti rispondo con un'altra provocazione Vai E cioè Quando abbiamo avuto però l'opposto E cioè Allegri in una piccola E Gasp in una grande Allegri nella piccola col Cagliari È fatto molto bene Gasp con l'Inter molto male Poi sono d'accordo Per me Allegri l'Atalanta in Champions Non l'avrebbe portata forse neanche una volta Non ripetute volte 8 anni di carriera a Bergamo Però ci sono veramente tanti estremi In questo No Infatti questo solo per dire che Il tema di guardare solo Le vittorie Il palmarès Certo Certo Io sono partito dalla cosa più Più banale che Che c'è No vado io Vado io Vado io dritto Se mi permette Allora Siccome il gioco del Chi ti piace Chi ti spiri Eccetera Io scelgo Gasp Perché è stato il primo Abbiamo parlato di Braccetti A me quella roba lì Sto in fissa Ho fatto 300 video Sui Braccetti E sulla loro utilità Ivan ride Perché Poi avevamo fatto pure un Inter Ti ricordi Un Inter Avevamo analizzato insieme Un Inter Atalanta Con i Braccetti Che andavano da una parte all'altra Darmian Scalbini Tutte le parti del pianeta E secondo me Nel piccolo Vi dico questa cosa Mi faccio un piccolo flex In YouTuber League E in GOT Io Quando utilizzo Cioè utilizzo sempre il braccetto Per portare uno in più E Luca E Luca lo sa La cosa che proprio Mi mette in fissa Toloi Caldara Cioè 2017 Le cose che vediamo adesso Nel 2017 2016 Gasperini le faceva Già le faceva E già otteneva Dei risultati Tatticamente Interessantissimi Di Gasperini Non mi piace Che io Io non farei mai Uomo su uomo A tutto campo Per me è una cosa Da piccola squadra Per questo io penso Che Tudor Per esempio Non sia un allenatore Pronto per una grande squadra In Italia Detto questo Io la faccio passare E io Scelgo Gasperini Io scelgo Gasperini Scelgo Gasperini anche io Per una motivazione molto semplice A me Il gioco di Allegri Non è mai piaciuto Non mi sono mai piaciute Alcune sue interpretazioni Anche Di alcuni giocatori In determinati ruoli E vado indietro nel tempo E penso ad Emanuelson Trequartista Che è una cosa Che sin da piccolo Mi ha fatto Rabbrividire Perché purtroppo Poi Si va a perdere Quel primo Cioè si va a perdere Quel secondo scudetto Del mitico gol Di Montari Anche per alcune sue scelte Un po' Un po' Scellerate Secondo me Il gol di Amauri A Firenze Rispetto per Emanuelson Però Rispetto per Emanuelson Sì Però No 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 Perché in realtà Qualche partita buona L'ha fatta Secondo me Più da esterno Che da trequartista Lui l'ha addirittura Fatto giocare da trequartista Però insomma Il gioco di Allegri Non mi è mai piaciuto Nonostante Gli debba riconoscere Il fatto che è uno Super cinico Nel senso che Chiaramente Ne stavamo parlando prima Quanto sei disposto A non essere un filosofico Ma a vincere le partite Alla fine Quindi In passato Poteva essere Un po' più efficace Questo suo modo Di giocare Questa sua filosofia A suo modo Adesso secondo me È un po' troppo passata E quindi Non essendo più attuale Ti battono Ti battono E tendono a batterti Anche se Provi a giocare In quel modo lì Quindi preferisco Una roba molto rara Una decina Il city che imposta Che imposta a tre Effettivamente Si possa scegliere Però Credo che sia anche un confronto Che non vada fatto Solo sull'oggi Ma sulla totalità Della carriera Perché se facciamo passare Allegri Per quello Che oggi Non vince mai Con Gasperini È vero Oggi Non ci vince mai Ma la carriera È stata una carriera No 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 Lo dico per completessa Perché Di spunto Di spunto tattico Certo Certo Stiamo paragonando Stiamo paragonando Mi sembra Che state mettendo Sullo stesso piano L'utilizzo dei braccetti Con N trofei vinti No ma infatti È quello che dico Cioè È molto combattuto In realtà Non è così chiara Io Vado oggi però Io voglio È quello che sto facendo Cioè Io sto interpretando Come italiano Cioè per me Può vincere pure zero Ma se Però tu lo dici Però tu lo dici Da utente del calcio Da passare calcio Dai Per me non si può annullare Sei scudetti E mille coppe No Cioè Nel senso Perché io Io sia Io sia In quanto In quanto calciatore Direttantistico Che in quanto Eh Ma sì Se dovessi mettermi Nei panni anche Di un dirigente Io alla fine Voglio Voglio anche vincere Ragazzi Ma infatti Secondo me Il discorso Io voglio anche vincere Se fossi presidente Di una squadra E volessi dare un'identità Alla mia squadra A zero Prendo Gasperini Se sono Real Madrid Prendo Allegri Ma certo Infatti Dipende molto Dalla situazione No No però Tu sei tu Da chi Cioè Da chi Vai a vedere Una sessione Tattica Questa è la domanda Se vado allo stadio Voglio vedere L'Atalanta O vedere la Juve Oggi Non ci penso mai Se devo guardare Solo la parte ludica Non ci penso mai Ovviamente Poi il discorso Purtroppo Per Allegri Di riflesso Per la Juve Ragazzi Sul discorso estetico Però voglio dire Cioè nel senso Purtroppo i tifosi Hanno memoria corta Allora oggi È chiaro che Questo discorso qua C'è anche poco Eh ma infatti Io dico sull'oggi Per me sull'oggi Il voto va a Gasperini Ho capito ragazzi Però secondo me Non si può non considerare Non si può non considerare Il passato Ma infatti Io l'ho messo tutto Ho messo il passato di Allegri Il passato di Gasperini Io l'ho messa tutta Poi In manca Infatti te lo faccio sull'oggi Cioè perché allora Anche prima ti dicevo Avrei votato in Zaghi Però oggi ti devo votare Tiago Motta Per quello che mi ha raggiunto Con quello che aveva Quindi io cerco Di andare coerente Con quello che ho detto Dall'inizio sulle votazioni Anche De Rossi Oggi non ho I dati per Quindi io ragiono Sull'oggi Poi mi piace sempre Prendere in considerazione tutto E pensare che I trofei di Allegri Non siano impattanti Nella votazione Beh per me È una follia Perché se li ha vinti È perché è stato ritenuto L'allenatore giusto In quel momento lì Quindi Anche perché Anche perché ragazzi Cioè per rispondere Alla provocazione iniziale Di Ivan Per me È proprio una roba Che a me fa 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 arrabbiare Quando si dice Era facile vincere Quegli anni lì alla Juve Non era facile Non ancora niente Sicuramente Poi cinque anni Allegri Allegri Con così tanto tempo Pensate Quante Pensate quante volte Quest'anno È stato detto Eh ma Chiunque Sarebbe andato Al posto di Spalletti Avrebbe fatto un flop Ragazzi ricordatevi Ricordatevi da dove parte Allegri Cioè parte da tre scudetti di Conte Dove Conte arrivava dopo due settimi posti Conte sembrava il messia per i Juventini Io mi ricordo il giorno in cui lui si dimise Me lo ricordo Cioè c'era una disperazione in casa Juve Tanto che Allegri viene accolto con i pomodori Contro la macchina ragazzi Con i cuori Noi Allegri lo vogliamo tutte le volte che il pullman si spostava In una situazione di questo tipo Ripartire dopo un campionato di 102 punti Con un allenatore che va via perché non gli fa mercato Che esce al girone di Champions E con la stessa identica squadra Ti fa finale di Champions Scudetto e Coppa Italia Faccele in base a cosa? Faccele in base a cosa? Due anni dopo cambia il ciclo Ti vanno a prendere giovani come Dybala Vai a perdere un giocatore come Marchisio Al centrocampo fai quasi tutta la stagione con Hernanes davanti alla difesa Ti vai a reinventare altri giocatori Faccele secondo me non è Ricordo un po' la storia di Ora chiaramente io non l'ho vissuta Ma l'ho studiata e l'ho guardata La storia di Sacchi e Capello nel Milan Cioè si deve decidere se smantellare la squadra Oppure cambiare allenatore E Capello con la stessa identica squadra di Sacchi Va a vincere poi dopo quello che ha vinto Raccogliendo la stessa squadra E che poi gli vengono cambiati due o tre giocatori Negli anni successivi Effettivamente il discorso ci sta Il problema è che bisogna definire un perimetro Un contesto nel quale votare Ognuno se lo decide Io per dirti italiano lo porto avanti di becca a becca Perché a me piace quel gioco No va bene Infatti Però per me questo è lo scontro più difficile di tutti Perché se da una parte avevamo Inzaghi Motta che pensavo fosse molto più liscio Dall'altra italiano dei rossi che per me era sbilanciatissimo E infatti è andata così Su questo secondo me c'è tanto da discutere E possiamo stare qua due ore Oggi c'è la sensazione Per quello che io dicevo Parliamo di entrambe le fasi Perché oggi c'è la sensazione di un allenatore in declino Che non riesce a stare al passo con i tempi O che non vuole Forse stare al passo con i tempi Perché un po' alla Murigno Più lo attaccano E più lui diventa prigioniero del suo personaggio Per riprendere anche le parole che avevo usato Giuseppe Pastore qua E allo stesso tempo un allenatore Che più lo attaccano E più si arrocca nelle proprie idee Dall'altro lato c'è invece un allenatore che è Gasperini Che ha la sensazione di essere in costante evoluzione Anche lui ha avuto una flessione all'Atalanta Dove ha dovuto capire come riadattarsi E secondo me lo ha fatto molto bene E questa capacità di mutamento Questa capacità di evoluzione Secondo me lo rende un allenatore ancora più longevo Ancora più credibile su cui scommettere Qua Tutti in the Box Lui dicevamo Forse hai ritato tu a lanciare la suggestione Di Gasperini al Bologna Come successore di Tiago Motta Dato che c'è anche Sartori È molto bella questa roba qua Per cui secondo me questa qua È un'altra cosa importante Un altro fattore importante A cui dare comunque il giusto peso Dare la giusta valutazione Però allo stesso tempo Non possiamo secondo me Non considerare quel dominio di 5 anni Dove Allegri in Italia Ha fatto piazza pulita Conto qualsiasi squadra Qualsiasi avversario Più due La chat ha votato Allegri Quindi siamo 3-2 Quali sono i voti? Chi ha votato chi? Votiamo Gasperini Gasperini Allora ha vinto Gasperini No non è vero La chat ha votato Allegri Siamo 3-2 Mancano Matte Io ho votato Allegri 3-3 Quindi chi è che manca? Il critico ha votato Gasper Vince Gasper Voi a Milano avete votato Tutti e due Gasper? Sì Ah ok Allora me lo faccio Quindi 4 Gasperini E io più la chat Allegri La chat tra l'altro È stato il voto Questo meno conteso In chat Perché il 68% Era per Sì più deciso Per Allegri Però Però c'è da dire una roba Ragazzi Cioè questa Il fatto che Gasperini Si è arrivato tanti anni In Champions con l'Atalanta È vero È un trofeo Ma Allegri 5 anni di trofei Gli ha fatti davvero Cioè È questa cosa Quella che Ma nessuno discorre La rendeva direttiva Cioè 5 anni di trofei Sono tanti 5 anni E poi è ovvio Devi valutare anche queste 3 Che sono 3 anni Di no trofei Però 5 anni sono tanti Lo devi dire a te stesso Lo devi dire a te stesso Che hai votato Gasperini Lo devi dire con te stesso Ma io la prima cosa Che ho messo in palio Sono i titoli Cioè non puoi Chi voti Gasperini allora? Eh te l'ho spiegato il perché Perché comunque Mi è sembrato comunque Molto lungimirante Nel vedere l'evoluzione del calcio Cioè Gasperini Questa qua secondo me è stata Sei Tipo quando Quando i giudici sbagliano A far uscire un big X factor Che si guardano E dicono Abbiamo fatto una cazzata Così Più o meno secondo me È andata così Comunque Gasperini È tosta È un terzo semifinalista Terzo Perché La stiamo facendo Da doppio passo Tutti in the box Cioè Tattica Siamo un po' così No noi Cioè non c'è prega di vincere Noi andiamo Poi quando vai in campo Però ti prega poi solo di quello Forza Juventus creator Ora abbiamo vinto Esatto Ragazzi Quarto duello Quarto quarto di finale Mamma mia se siamo lunghi Eh sì Dobbiamo Io voglio finire il gioco Ve lo dico Questa è tosta Palladio contro Gilardino Allora vado io Oggi nel mio video ho detto Che il Genoa lo allena Palladino E tutti mi hanno detto Ma cosa dici Cioè proprio Mi è venuto Palladino Invece di Gilardino Vado Giustamente Alessio dice Gilardino underrated Ma votiamo a sensazione Quello che piace a noi Per me anche Gilardino underrated Un ottimo allenatore Con principi Se vuoi Interessanti L'utilizzo di Vasquez Anche è un altro Braccetto Barra centrale Che Che utilizza molto bene È una squadra solida Però il Genoa È una squadra Che fa tanti contrasti È una squadra maschia È una squadra difensiva Se volete In termini Di principi Quindi io mi prendo Palladino Perché l'ho visto dal vivo Perché per me È molto intelligente È molto versatile Farà un'ottima carriera Dal mio punto di vista Glielo auto E è un allenatore Che sta mixando Secondo me Alcuni principi Il Monza Fa tanta costruzione Fa tanto possesso Più l'anno scorso Rispetto a quest'anno Ma è comunque Una squadra Che sa anche Difendere Molto bene E sa soprattutto Sfruttare Tanto gli spazi In ampiezza Sia con gli esterni Sia con Colpani Per dirti che si apre Quindi vabbè Il mio voto va A Palladino Io invece lo do Sarò molto breve Io lo do a Gilardino Per il semplice motivo Che Palladino Era presuntuoso In campo Da giocatore E secondo me Lo è anche Da allenatore E per cui Tiago per me Tiago per me Gasperini Tiago Monttani Mi metto più Arroganti In panchina Di Palladino Tu dici no Lo senti arrogante Presuntuoso Presuntuoso Vanitoso Vanitoso un po' sì Lo era anche in campo Nonostante non fosse un fenomeno Lui secondo me ha fatto Un'ottima stagione L'anno scorso Però da lì E secondo me È un po' sopravvalutato Da tutti Tant'è che infatti Quest'anno È già È già in fase È già in fase Noi ne comprano uno però Fammelo dipende Non gli hanno comprato Un cristiano Non gli hanno comprato uno Cioè gli hanno comprato Il giurice A gennaio Come si fa Esatto Ed è per questo Che il mio voto Va a Palladino Ragazzi Anche Tiago Motta Ha perso Arnauto I vice giocatori importanti Poi è stato bravo lui Magari a valorizzare Quelli che gli sono arrivati Sì però Quanti gliene sono arrivati Matteo Quanti gliene sono arrivati I nuovi Quanto dire Acquisti validi No però Salma Cersi Fabian Per me sì Salma Cersi Fabian Carson Carson Che giochetti Dai Allora non puoi dirmi Non ho presi tanti comunque Mettila dall'altra parte Il Monza arriva decimo E quest'anno è undicesimo Senza acquisti No ma infatti Ma infatti io difendo Io sono D'Ambrosio e Gagliardini Non sono due coglioni Però scusate Per carità sì Però D'Ambrosio In presente non ha fatto manco giocare Gagliardini Sì ma sono due figurine Dai Allora Di cosa stiamo parlando Nel senso che Beh Gagliardini no dai No ma sono Sono forti Sono forti Però hanno Più quel nome Da figurina Se ora Li paragoni al loro livello Comunque li fai stare In quel livello lì E quindi Che sono poi I classici colpi Anche di Gagliani Cioè nel senso Gagliani Anche al Milan Negli ultimi anni Ha sempre fatto Quei colpi lì un po' Quelle figurine Che prendeva E provava a vedere Serviva una punta Al Monza Ragazzi hanno preso Colombo Che non ha neanche Fatto malissimo Ma comunque È un giocatore Che l'anno prima Ha fatto quattro golle Sì no ma Io voto Io voto palladino Perché sempre c'è fatto Che l'anno scorso Ha preso una squadra Che sarebbe retrocessa Ma proprio a mani Bassissime E l'ha portata Ad una buona posizione Gli hanno venduto Un Carlos Augusto Che gli faceva Tanta differenza E quindi Rovella Rovella anche Non sono Non sono Proprio non sono Per niente d'accordo Cioè anche l'anno scorso Dire che era una squadra Che doveva Doveva scendere sparata Ragazzi ma Vi ricordate Il mercato che ha fatto L'anno scorso L'anno scorso L'anno scorso Il Monza Lo metteva Una metà classifica E' stato stroppo Ragazzi E' stato stroppo Però prima di palladino Era così E' quello ragazzi Cioè Palladino non faceva Un punto in Serie A Non è mica una brutta squadra Ragazzi Il Monza La rosa del Genoa E' superiore A quella del Monza Io sono d'accordo Con Matteo Cioè la rosa del Genoa E' superiore A quella del Monza Beh Infatti dopo Si vedrà quest'estate Quando Retteghi Andrà via da Genoa Gudmundson anche Sicuramente Frendrup Andrà via No Quanto mi riguarda Matti Senza denigrare Girardino E mi piace Cioè non denigrare Non è che lo stessi facendo Però nel senso Io non voglio togliere A Girardino Però voglio mettere Quel che è giusto A Palladino Secondo me Cioè la rosa del Monza E' inferiore al Genoa E' un'argomentazione A valore di quello Che dice Matteo Che la rosa del Genoa E' superiore A quella del Monza Cioè secondo me Al Genoa Vai a prendere 4-5 giocatori Di cui uno L'ha già preso Il Tottenham Uno è già Lato via Esatto Capito Io avevo molto Sottovalutato Il Girardino Devo essere onesto Mi aspettavo Molto molto peggio E invece Il Girardino Ha fatto vedere Di essere Un bel allenatore Con Una sua quadra Interessante Io non sono Estremamente Innamorato Di Palladino Non ne parlavo Anche l'altro giorno A Roma Con Luca Abbiamo fatto Un contenuto insieme In cui gli spiegavo Anche un po' I miei dubbi E le mie perplessità Diciamo che Sono molto combattuto Perché non sono Affascinato Al 100% Da nessuno Dei due allenatori Se devo ora Scegliere Forse Un 51 Palladino 49 Girardino Solo per il fatto Che l'anno scorso Il Monza L'ha preso Che era talmente Disastrato Ed è riuscito A rimetterlo in piedi Però Sì E' un punto 3-1 Palladino Molto al limite E la chat Manca Ivan Io aggiungo solo Che Girardino Me lo ricordo bene Quando ero a Siena Perché quando io ero La vispesa Ero giocammo contro E lui era Secondo me Un buon gestore Come lo è Tutto oggi Non Non ti porta Qualcosa di nuovo Come al contrario Invece Secondo me Sta facendo Palladino Quindi voto Palladino Anche se Avevamo perso Contro di lui Vedendo anche Vedendo anche Il super lavoro Il super voto Della chat Direi che Siamo In una netta maggioranza Nei confronti di Come sono le semi Come sono le semi Le semi finali sono Italiano Gasperini Palladino Italiano Inzaghi E Gasperini Palladino Per parlare di Palladino E per chiudere Dobbiamo anche pensare Che gli hanno preso Papu Gomez Che è un'altra figurina Che però secondo me Avrebbe fatto molto bene Perché è super adatto Alle seconde punti Perché alla fine Palladino È un gasp Che ci sta provando No beh Perché alla fine Il gasp Senza uomo su uomo È un gasp Senza uomo su uomo Però fondamentalmente Dà un sacco di valore Agli esterni Perché i suoi esterni Cioè anche Basta pensare a Ciurria dell'anno scorso Quest'anno Meno Però Ciurria dell'anno scorso L'ha valorizzato Mica per niente E le sue seconde punte Giustamente Matteo ci ricorda Caprari rotto Cioè E lo vai a sostituire Con tutto quel malasma Di giocatori Che vai a prendere In questo In questo gennaio Tra Daniel Maldini E trovi questo Valentin Carboni Eccetera eccetera Che però non sono All'altezza di un giocatore Come il Papu Gomez O come Caprari Che sono già Due giocatori più sicuri E quindi Secondo me Gli va dato anche Quel valore lì Vabbè Questo è per chiudere Ma è difficile Palladino quindi Quindi palladino Ma non è facile Per me invece Sono molto facili Giura Davvero Vabbè T'ho capito T'ho capito Era molto più difficile Prima Che adesso Secondo me Beh adesso si parte Con Inzaghi Inzaghi italiano Io me sto fregando Andiamo 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 con la prima Semifinale Ma aspetta Ma chi è che ha aggiunto Bellissimo Ma manco Ma sei stato te Ragazzi Un applauso a Francesco Facciamo un attimo No ma io voglio sapere Chi è che ha aggiunto Al volo Questi suoni qua Ancora più bello Sì sì ci fossero Già nel video Insomma Però prima non ne avevamo sentiti Si era dimenticato Troppi Ne abbiamo fatti Troppi Che spettacolo Che spettacolo Spettacolare Ok quindi No allora Cos'è italiano inzaghi Giusto perché ero talmente Penso dai suoni Che non ho guardato Ok Italiano inzaghi Italiano inzaghi Vabbè parto io Così me lo tolgo Così Luca può pensare A come giustificare Italiano intanto No a me italiano piace L'ho sempre detto Lo ribadisco Mi piace Però anche prima Siccome la sfida tra inzaghi E motta Era sbilanciata E il mio era stato Più un voto Di protesta E un voto sul lavoro attuale Ma inzaghi Ragazzi inzaghi Oggi in Italia Lo metti davanti A tutti gli allenatori Che ci sono E probabilmente All'estero Qualcuno Ci sta facendo Un pensierino Quindi Per me va avanti Inzaghi Rinnovo Rinnovo anche io Quello che ho detto prima Aggiungendo solo Il fatto che Alla fine Se noi andiamo A vedere Forse Non sono proprio Diciamo comparabili Però La Lazio di Inzaghi Per parlare anche Di come è partito Inzaghi La Lazio di Inzaghi Secondo me Era un po' A livello della Fiorentina Di italiano In questo momento Ma Inzaghi È riuscito a portarla Anche a vincere Una Coppa Italia Se non mi sbaglio Se non due Ma sicuramente una E quindi questo Avvalora Avvalora il mio voto Ad Inzaghi Rispetto a italiano Sì dai I concetti Sono quelli di prima Anche a me Italiano È uno degli allenatori Che piace di più Come gioca Inzaghi Troppo meglio Nel suo percorso Fino ad oggi Bello Bello quello che dice The Just Park Perché giustamente Ne dovevo trovare Anche degli spunti Per trovare qualcosa di diverso No? E dice Non mi piacciono troppo I mono-idea Mono-modulo Quindi questo mono-idea Mono-modulo Di Inzaghi Secondo voi L'ha un po' superato Cioè È stato molto criticato In passato Soprattutto Mi viene a pensare L'anno scorso Due anni fa Per il fatto Sai Togliamo sempre Gli ammoniti Cosa che adesso Non fa più E il modulo È sempre lo stesso Anche adesso Il modulo è sempre lo stesso Però è stato facilitato Dal fatto che Era un orrore La cosa degli ammoniti Un orrore Era bruttissimo È un orrore Infatti Infatti Io sono convinto Che quella sia La sua forza Però Cioè Il fatto di non cambiare Mono-modulo Ad esempio È quello di Diciamo Di essersi fatto costruire Una rosa Che ha Che ha due rose Effettivamente Due undici titolari Se non sono proprio titolari Comunque Poco ci manca È anche il motivo Per cui tu vai sotto Contro la Roma In una partita difficile Ma sai che con le tue idee Con il tuo gioco Tu la recuperi E quindi Secondo me È un È un punto in più Quello di essere Mono-idea Vedi perché era Interessante Prima con Tiago Motta Perché Inzaghi È uno vecchio A scuola Tra virgolette Dal punto di vista Del modulo Cioè Ragiona proprio sul modulo 3-5-2 Cioè Motta invece È uno che ragiona Più sulla creazione Degli spazi I giocatori Che vanno a prenderseli Però Inzaghi È riuscito a modernizzarlo Questo 3-5-2 Perché non è un 3-5-2 Classico Come Come lo conosciamo noi Quindi È vero che è mon'idea Ma Ma La che fa La fa bene Ma secondo voi Secondo voi Un'altra domanda che faccio Soprattutto ai match analyst E a chi magari guarda Le partite Più Verso quel Da quel punto di vista lì I compiti tattici Dei giocatori Dell'Inter Sì Sono sempre gli stessi Cioè Quello che intendevo Per collegarmi al discorso Che facevo prima Del fatto che secondo me Inzaghi sarebbe pronto Per una grande squadra Perché secondo me Cioè per una big europea Perché secondo me Lui va In una big europea E fa fare le stesse cose Ai giocatori Che si trova Che si trova lì E quindi Se funziona Il modo di giocare L'idea di gioco Alla fine funziona Dalla parte Ma anche dall'altra Se hai gli interpreti giusti Chiaramente Però se vai in una top È difficile che hai Gli interpreti sbagliati Ecco Diciamo che Inzaghi È stato fortunato A questo punto di vista Perché prendeva in mano La squadra di Conte Che partiva già Dal 3-5-2 Quindi bene o male L'Inter era costruita Per giocare in quel modo Anche se L'approccio è Completamente differente Quindi Aveva trovato una base Cioè se vai in una big europea Come il Liverpool Che ha sempre giocato 4-3-3 Forse fa un po' più di fatica E deve iniziare a Rispolverare Il 4-3-3 Che va utilizzato Alla last L'Inter secondo me Va molto in spazi Cioè Occupazione degli spazi Poi chi li vada A occupare Quegli spazi Non è importante Quindi Da questo punto di vista Qui si hanno Dei canoni Stattici Molto ben definiti Ma All'interno Di quei canoni È ammessa La Librido Della posizione Che è una cosa Che fa tutta la differenza Del mondo E Comunque Io veramente Sono in difficoltà Perché da un punto di vista Ideologico Cioè se dovessi pensare Alla mia squadra Mi piacerebbe Giocasse come Una squadra Di Vincenzo Italiano Però Anche Quel poco di campo Che ho fatto Nella mia vita Poi alla fine Forse in Zag È proprio Quel calcio Che uno cerca Di replicare Con appunto Le posizioni Ibride L'occupazione Gli spazi I famosi Braccetti Quindi Io voto italiano Solo per bilanciare Un pochettino Però È davvero difficile Lascio un attimo Una parola a Matte Voglio rispondere Solo un attimo a Mor Sì sì Assolutamente L'Inter ha cambiato Tanto da Conte Però Nel momento in cui Cambi l'allenatore La rosa di partenza Era quella Per quello Dico che È stato fortunato All'inizio Poi Zaghi Ci ha messo Tutto se stesso Ha fatto Bene Anche nella sostituzione Di alcuni giocatori Cardine Di Conte Quindi Non sto paragonando Le due rose Però Partire da quello Che era già Un certo tipo D'approccio Sicuramente è stato Una fortuna C'è poco da aggiungere Ragazzi Quello che avete detto Nel senso che Anche perché La cosa che Secondo me Dà tanto valore Al lavoro Di quest'anno Di Zaghi È che Ha raggiunto Questi risultati E sarà l'anno In cui vincerà Lo scudetto Poi da vedere La Champions Nell'anno in cui Ad agosto C'erano più Incognite C'erano più Incertezze C'erano più Punti interrogativi È stato l'anno Sicuramente Di partenza Dove Dove L'Inter Sicuramente Era più in difficoltà Rispetto a tutte Le altre stagioni Di rispetto a tutte Le altre annate E quindi Questo secondo me Valorizza Ancora di più Il lavoro Il lavoro Che ha svolto E quindi Insomma Il mio voto Deve andare Inevitabilmente Di Zaghi Mi costa Perché non C'ho simpatia A pelle Però Dobbiamo essere seri Per cui Ma Posso rispondere Un secondo Con una parola A Dani Ligno Che ne pensavi Su Slov Un fenomeno E basta E' così secco Però Questa ce l'abbiamo Direi Direi che qua Il dibattito L'altra chat Non ho mica visto Ce l'abbiamo lì Direi di sì Credo che sia finita Quindi 7 a 0 No 6 a 1 Io Giusto? Io so Io sono Quello che Vabbè ma Per ideologie Solo Ripeto Non ci credo Neanche io Non farei mai Giocare Una mia squadra Come quella Italiana Ma mi piacerebbe Io ho capito Quella strategia Del critico Il critico Vuole sfruttare La vetrina Per prendersi Comunque più utenti Possibili Dalle varie community Di tifosi Delle varie squadre Quindi lui va a difendere Comunque magari Quelli in difficoltà No? E' questa L'attacco Della scemi Ubriata Quasi La strategia È questa La strategia È questa La strategia La strategia La strategia È questa Quindi Inzaghi Giusto Meritato Meritato Quest'anno come fai ragazzi Bisogna alla fine Alla fine Il presente Alla fine Il presente È la cosa Che conto di più Nei giudizi Sul calcio Sul calcio Secondo Duello In semifinale Secondo semifinale Via con la grafica Let the fight Begin Allora Allora Adesso facciamo Chiamo all'ordine La chat Devo che siamo Praticamente 700 persone In live Applauso A Francesco Grafico Di tutti In the box E anche A Max Che è Il gestore Universale Di Bovo TV Channel Ragazzi Perché Tutti in diretto Ovviamente Non è che Avevamo preparato Tutte le combinazioni Tutte le grafiche Sono in diretta Live Gestione C'è un'organizzazione Indietro Che non vedete E quindi Dobbiamo Assolutamente Fare Un applauso Anche a chi Sta dietro Quindi grazie Fra E grazie Max Allora Gasperini Contro Contro Palladino Allora 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 Sapete cosa vi dico Io adesso Voto dritto Proprio sparato Gaspe In modo tale Che dopo Io lo anticipo Già Lo anticipo Già Io andrò a difendere Gasperini In finale Perché se avete Perché se avete Buttato Perché se avete Buttato fuori Se avete buttato fuori Allegri Con i discorsi Che avete fatto prima Adesso Vi voglio Poi sentire In finale Con Gasperini Ti faccio dubbio Incazzare Voto Palladino Io invece No ma no Non è possibile Allora 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 sei un finto Allora sei un finto Davvero Allora sei un finto Davvero Allora abbiamo detto Che Cosa ho detto Di Gasperini Non mi piace Non mi piace Il Penso che sia Da piccola squadra Non so Non so che ne pensa Ivan Tra l'altro sono curioso Non mi piace L'uomo su uomo A tutto campo Non mi piace Non è una cosa Ma prima mi hai messo Che ti piacciono i braccietti Contro i 14 trofei In due anni Mi prendo i braccietti di Palladino Mi prendo i braccietti di Palladino Palladino Ma te sei il finto Per eccellenza Palladino Per me non c'è neanche da discutere C'è il maestro contro l'allievo Se puoi Palladino Un domani Ci farà vedere che Ma oggi Gasperini è ancora Più avanti Dai Critico Io ti dico che Se il tuo Modo di giocare Si rispecchia In quello italiano Il mio sarebbe Quello di Gasperini Tutti uomo su uomo Così è facile Se sbaglia C'è il singolo che sbaglia E non si parla di reparto Lo cazzi subito È più facile Ci sta E vabbè Gasperini Dai Ha rivoluzionato un po' Il calcio Quindi Lui È stato il primo A far vedere Sì il primo Uno dei primi A far vedere un bel giuoco Anche in Europa Non dimentichiamoci Che comunque l'Atalanta Arriva anche Della Champions League In una Cos'è? Una semifinale No cos'era? Una semifinale? No No quarti Quarto di finale Contro il Paris Saint Germain Che ha emozionato Tutto Campo neutro Campo neutro Esatto Comunque ci ha emozionato tutti Ha valorizzato tantissimi giocatori Esprime tuttora un bel gioco Capace di evolversi Lui probabilmente Non è proprio al top A livello di empatia Con i suoi giocatori Ma quella forse È anche Il suo lato forte Il suo punto di forza Possiamo dire una grande differenza Anche rispetto a quello Che dicevamo prima Magari anche in difesa Di Palladino Cioè sul fatto del non mercato Di gente che è andata via Di infortuni Cioè Gasperini ha veramente Si è sempre saputo adattare In tutte le stagioni Nelle stagioni in cui aveva mercato Nelle stagioni in cui aveva infortuni Nelle stagioni in cui Non gli ha affatto mercato Nelle stagioni in cui Sono andati via Nelle stagioni in cui Si è messo le mani addosso Col Papo Gomez Lui ha sempre trovato Una soluzione Rispetto anche a quello Che dicevamo prima Nei confronti di Palladino Quindi abbiamo fatto passare Palladino Anche perché rispetto a Giardino Gli hanno fatto poco mercato Ha avuto degli infortunati Gli manca la punta Eccetera Ecco Gasperini Questo secondo me È proprio l'emblema Bravissimo Ma poi Poi per dire Quando hanno preso Scamacca Questa è stata La prima cosa che ho pensato È replica d'Uvan Zapata E invece alla fine Non è un titolare Scamacca Quindi Gasperini A seconda di chi ha Costruisce Quello che c'è Gasper è il numero uno A farti credere Che un giocatore Possa diventare Tipo Bucker Cioè E poi è giocato Ha giocato Non mi viene Ruggeri Sì Però c'è da dire Che in realtà Bucker è arrivato Con quella nomea Ma lui non gliel'ha mai data In realtà Cioè non gliel'ha mai dato Neanche il barlume di speranza Di poter giocare titolare Sì anche perché Perché sia nella pre-season Che la primissima È stato un disastro Bucker ragazzi Lui ci ha provato Ma era veramente disastroso Mi ricordo le prime partite In preciso Neanche le primissime Di campionato Bucker faceva Veramente una fatica Tremenda Grazie a tutti Grazie a tutti